Per la nuova gestione delle biblioteche comunali di Francavilla Fontana, l'ex senatorio prebio Curto parla di un bando solitario, stile Covid-19. Curto non entra nel merito del bando, che come dice sicuramente sarà inercepibile sotto l'aspetto formale di legittimità, dal momento che affermarla nella sua qualità di responsabile del servizio è colui che riveste anche la carica di segretario generale. Purtuttavia alcune perplessità sorgono naturalmente, anche se sono di natura squisitamente politica o comunque di opportunità, che è aspetto per Curto dell'agire politico non tenuto in gran conto da parte dell'amministrazione Denuzzo. A partecipare al bando si è presentata solo una cooperativa. Per l'ex senatore sarebbe stato forse opportuno riaprire i termini della gara, per favorire una maggiore partecipazione e quindi un vero confronto tra diverse proposte progettuali. Per Curto una partecipazione solitaria inevitabilmente reca con sé legittimi dubbi. L'ex senatore si rivolge poi ai tanti cultori e benpensanti locali e si chiede come mai è possibile che in una città come Francavilla Fontana non vi sia stato un solo contenitore culturale idoneo ad onerarsi di una sfida sicuramente non facile, ma altrettanto certamente entusiasmante, quale quella del rilancio della biblioteca comunale. Nessun operatore culturale della città degli imperiali si è fatto avanti. La verità per l'ex senatore è che ormai dalle parti di Castello Imperiali, Francavilla è diventata una sorta di grande salento. Ovunque trovi i tarantini, leccesi o brendesini, ma non francavillesi.